Sono partiti i lavori di restyling del lungomare, sono partiti da una parte essenziale che è la nuova fogna per raccogliere le acque bianche, le acque di pioggia, quindi è stata interdetta una parte della strada, una parte della ciclabile, comunque in una zona poco utilizzata e adesso andremo verso via Nazario Sauro, questa parte si dovrebbe concludere all'incirca a giugno, poi in parallelo partiranno anche i lavori del rifacimento del marciapiede lato mare e invece la parte più impattante, specie sulle attività commerciali di ristorazione, quindi il marciapiede da rifare davanti alla zona dei ristoranti, partirà da novembre e si concluderà a marzo, quindi da novembre 2024 a marzo 2025 con anche un scadenzario ben congegnato, ben partecipato da ristoratori, così se devono fare i lavori interni li possono fare in quel periodo che è il periodo meno frequentato dell'anno. Le scelte che stiamo facendo devono essere molto consapevole e mirate perché in passato lavori di questo tipo sono miserevolmente falliti, quindi stiamo dedicando molto tempo alla scelta dei materiali migliori e ancora non abbiamo deciso bene per il tratto di strada carrabile, perché è vero che si pedonalizza ma è pur vero che il carico e scarico con mezzi pesanti si fa ogni giorno, i mezzi della SIA devono passare ogni giorno e comunque devono essere strade pronte per l'uso in caso di emergenza, quindi vogliamo dei materiali che certamente è una messa in opera che certamente sia duratura e perciò quella parte la stiamo studiando con grande attenzione.